E' arrivato, è arrivato, il Milan è stato venduto, 370 milioni di euro sono arrivati, guardate dove vi porto perché ci dicono in questo momento che ci siano addirittura i festeggiamenti. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione